La favola di Briciola sta per finire. La cinghialina di Rocca Tederighi, mascotte del quartiere delle Cortine, da quasi un anno libera di gironzolare nel suo boschetto tra le case, diventata una vera e propria attrazione star del web, è sul punto di essere catturata dalla polizia provinciale, chiamata da un paio di persone che dicono di temerla, ora che ha messo al mondo cinque cuccioli. Eppure Briciola non ha mai fatto male a nessuno. Lunedì sera sono state predisposte due gabbie per la cattura, tra la rabbia e l'indignazione di chi l'ha cresciuta e ogni giorno la governa. La carezza ci gioca. Non fa danni, non puzza. Al massimo un paio di volte è capitato che trovassimo rovesciato un vaso di fiori, ma nulla di più, hanno detto i residenti. Non conosce la paura e quando le viene lasciato il cibo mostra di apprezzare il pensiero. Se vogliamo che non venga portata via, dobbiamo fare un recinto al più presto e uno di noi si deve prendere la responsabilità di intestarsela. Ha dichiarato Carlo, il macellaio nonché cacciatore del paese.